Non c'è sulla partezza, mi convontanferete la scuola di sentrali. Ok? Ok? Sì, una scuola, fuori e i ricercatori. Sливa cosa che palla come noi. Poi ricevete la vostra palla. I centrali, quando dicevano, la palla dove parlano corso dicevano... Ok. Che stanno qui, dicevano questa palla. e vanno vicino a tutti, cioè fanno un po' la chiamata. Guarda, guarda, sono l'alzata, sono 5-6 metri, vieni. Vieni, vado, 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 spingi, eh? Andiamo! Vai! Vado l'alzata, subito l'alzata, via! Mia! Vai! Via, via! Vai! Allora, l'alzata, il suo palazzo. Non? Va bene! Non, ci soiszi in un'alziata il suo palazzo. Allora, l'alzata, l'alzata, l'alzata... Allora. Allora, l'alzata, l'alzata. Allora, l'alzata, l'alzata... Ciao Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.